buona domenica delle palme qui a croparati provincia di cosenza che sia di augurio e di pace oggi ho preparato come da tradizione la pasta ziti volendo si poteva anche preparare si potevano preparare i maccaroni a ferretto ma ho preferito questa pasta che è molto deliziosa con sugo all'arrabbiata salsa anche nostra biologica ho messo anche questi peperoncini a guarnire che sono deliziosissimi e al sugo di pomodoro con questa bellissima carne sono delle costine di maiale per dire la carne attaccata all'osso che quella più saporita ancora un bicchiere di vino magliocco nero e ci siamo anche oggi un grande pranzo a voi tutti un grande saluto da mi c'è l'experto